Ragazzi miei belli buon pomeriggio a tutti, allora in molti mi avete chiesto che cosa ne pensi di quello che ha detto Gasperini ieri in conferenza stampa, molti di voi mi dite ah ma come fai a essere contenta per l'Atalanta visto che Gasperini ha sempre un astro nei confronti dell'Inter, visto che Gasperini parla sempre male dell'Inter. Innanzitutto vi dico subito che io sono stata contenta per il calcio italiano in primis perché io sono una appassionata di calcio, io adoro il calcio in generale ragazzi, poi sono malata di Inter ma quello è un altro discorso, ma mi piace proprio vedere le partite, appassionarmi, ti fare per una squadra piuttosto che per un'altra durante una partita di Champions League piuttosto che durante una partita di Europa League, anche di Conference League, di Ferrola Fiorentina per esempio il 29 di maggio. Io sono fatta così mi piace perché mi piace vivere di emozioni, di emozioni forti, indipendentemente che la squadra sia di Gasperini o sia di Tiago Motta o sia di Cinciullà, insomma indipendentemente da tutto. Quello che ha detto Gasperini e quindi per concludere insomma la cosa sono contenta per l'Atalanta in quanto squadra italiana e contenta per i tifosi, la piazza dell'Atalanta perché è una piazza che meritava questo trionfo. Perché dopo tanti anni di bel gioco e di una squadra che comunque si è data da fare e comunque è rimasta ai piani alti perché così, nonostante la realtà diversa magari dalle altre squadre che sono sempre state ai piani alti, meritava un trofeo importante. E lo ha portato a casa ed è stata la prima nella storia dell'Europa League, perché prima si chiamava Coppa UEFA, è stata la prima italiana a portarla in Italia. E quindi va onore al merito ragazzi, va fatto un applauso. Io la penso così, è un mio modo di vedere la vita, è un mio modo di vedere le cose perché lo sport dovrebbe essere questo in teoria, in pratica è totalmente differente, purtroppo direi. Detto questo Gian Piero Gasperini, allora Gian Piero Gasperini secondo me poteva limitarsi ovviamente a essere felice per la sua squadra e parlare di quello che di bello aveva fatto la sua squadra, di quello che di buono aveva fatto la sua squadra perché io penso che certe cose vadano probabilmente affrontate dai presidenti forse, non dall'allenatore in sé per sé. Però ognuno è libero nella vita di fare e dire quello che vuole. Ovviamente è chiaro, in un mondo fantastico, in un mondo fiabbesco, da favola, neanche io vorrei pagare il mensile dell'affitto, neanche il signore della porta accanto vorrebbe pagare il mutuo di 750 euro, neanche zio Pippo vorrebbe pagare 1500 euro con interessi esagerati al mese per un prestito purtroppo che ha dovuto per forza fare perché era con l'acqua alla gola. Nessun imprenditore vorrebbe a volte rivolgersi a delle finanziarie o a delle banche per poter cercare di stare a galla in un posto fiabbesco. Tutto questo sarebbe una cosa bellissima non avere questi pensieri e non avere questo tipo di debiti da dover pagare. Ma in un mondo normale, io mi alzo, pago l'affitto ogni mese, zio Pippo si alza, paga la sua rata del finanziamento con la banca o con chi l'ha fatto ogni mese, in un mondo normale il signore della porta accanto paga il mutuo di 700 euro mensili normalmente. E' così che funziona la vita e le squadre che devono investire perché hanno un certo blasone, perché devono competere in certe competizioni, purtroppo, ahimè, e non solo in Italia, perché ha voluto sottolineare più volte il signor Giampiero Gasperini in Italia, soprattutto in Italia in questo periodo, no, non è solo in Italia ma è anche in altre parti. Ovviamente parliamo del calcio inglese che vive sicuramente un periodo fiorente, sta bene, ma parliamo anche del Barcellona in Spagna. Ragazzi, parliamo anche del Barcellona in Spagna. E' così ovunque perché purtroppo ci sono stati anche dei momenti brutti, dei momenti difficili per tutta la popolazione mondiale, perché subito dopo il Covid c'è stato un tracollo verticale assurdo e bisogna dirlo mi sono spaccata un dito perché con il bracciale della Pandora che ho fatto pom così e mi sono praticamente rotto un dito. E quindi è così ragazzi, in un mondo fatato dove esistono le favole, dove c'è Maleficent e cioè, come si chiama lei? Ah, come si chiama lei? Malefica. Ho detto Maleficent, in italiano è Malefica. Mamma mia! E niente, in un mondo di favole c'è Malefica da un lato, la principessa Aurora dall'altro, le tre fatine, Flora, Faura e Sererella dall'altro lato. Insomma c'è questo mondo bellissimo dove tutto è perfetto, dove c'è il male, ma sicuramente il male si sconfigge e c'è un lieto fine fantastico. Caro Gasperini, non è così nella vita reale perché tutti hanno dei debiti, tutti hanno delle pendenze purtroppo, ahimè, tutti vorremmo non avere delle pendenze ma purtroppo o chi più o chi meno le ha e quindi ti devi stare, cioè nel senso ti devi stare tu e si devono stare tutti quelli che parlano troppo, fin troppo, però non capisco il tuo di intervento. Perché sei in una conferenza stampa dove devi festeggiare la tua squadra, dove devi innalzare la tua squadra e che fai? Sotterri le altre. E allora caro Giampiero, io non mi sono sentita punta sinceramente, il popolo interista si è sentito chiamato in causa sicuramente per quello che hai detto ma si deve sentire chiamato in causa anche il popolo juventino e il popolo milanista perché i debiti non li ha solo l'Inter, li ha anche la Juventus che ha vinto la Coppa Italia, lì ha l'Inter che ha vinto il campionato, lì ha il Milan che non ha vinto sta ceppa leppa, e ragazzi è così, ma ce li abbiamo, i debiti li abbiamo, è così. Poi ci sono altre squadre che grazie a Dio non ne hanno ma vorrei vedere sotto delle magagne che ci sono in merito a certe altre squadre di altri tifosi che si fanno i gradassi, noi perché noi, perché noi, perché noi, e vabbè perché noi abbiamo i bilanci alle stelle, perché noi abbiamo i bilanci perfetti e non vincete mai una beata mazza, ma scusate ma il tifoso no? Ma che cazzo vita se ne frega del bilancio? Cioè il tifoso vuole vincere, vuole competere, vuole essere competitivo il tifoso. Ora, c'è ragazzi, adesso esiste pure lo scudetto del bilancio, adesso esiste il trofeo del bilancio e tenetevi il trofeo del bilancio, tenetevi il trofeo del bilancio, a me non me ne fotto proprio del trofeo del bilancio e perdonatemi se mi sto facendo prendere ma sono, mi fa, mi dà un fastidio questo atteggiamento di alcuni tifosi che è veramente allucinante. Detto questo, Giampiero Gasperini ha un suo pensiero liberissimo di esprimerlo ma a mio avviso ancora una volta si dà il cattivo esempio alle tifoserie altrui che malignano, sputano veleno e odio nei confronti di chi ha i debiti. Tutto qua, questo è quanto, ma ricordiamoci che il calcio italiano, il prodotto interno lordo del calcio italiano, no, dell'Italia scusate, il calcio sta in briacanno, il calcio italiano ragazzi contribuisce al prodotto interno lordo del paese per 11 miliardi l'anno. Ok? E chi è che tiene in piedi il campionato italiano? Eh? Ditemelo! La Juventus? Il Milan? L'Inter? Da dieci anni a questa parte c'è anche il Napoli tra le grandi per carità, la Lazio, la Roma che sono sempre delle squadre con tanto blasone, ma poi la Fiorentina che è stata in lo tempo e quello che è stata ma oggi? E allora ragazzi? E allora ragazzi? Bisogna anche mantenerle queste squadre, no? E allora pensiamo alla nostra gobba come sempre e cerchiamo di vivere lo sport come giusto che sia, godiamoci le nostre vittorie e noi tifosi possiamo fare il sano spotto, ma gli allenatori e i presidenti pensassero essere felici per la propria squadra. Brava Bergamo, ti sei meritata questo trofeo e anche tutti i tuoi giocatori. Buona giornata a tutti e viva lo sport. No, sono una giornalista, sono un'appassionata. Eh, si vede pure. No, sono un'appassionata.